Siamo in Valdivara, dove in questo momento stanno inquadrando esattamente il posto, in questo paradiso terrestre, dove l'ACAM e il PD avevano pensato di fare la discarica di Mangina e dove il gruppo di Valdivara 5 Stelle e i comitati cittadini sono riusciti a vincere la loro battaglia per evitare che questo paradiso venisse distrutto, inquinato e messo seriamente in pericolo. Pensate da chi siamo governati.